A me basta sapere che sei disposto a condividere quest'avventura con me. Ma io condividerei tutto con te. Non possiamo condividere tutto, ma... le cose fondamentali. Certo. Io con Mario sto bene. È incredibile quante cose in comune abbiamo. Sarà perché ultimamente sono molto... motivato. Da Mario? Da chi, se no? Ci hai pensato bene, non è che lo fai solo per ascoltarmi. Lo faccio perché voglio condividere la mia vita con te. Mario! Sono felice. Che te ne pare? Bello, molto bello, allegro. Mario. Non vediamoci più. Come è Mario? È una cosa seria. Non lo so. No, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, è proprio l'ora di scoprire. Che che ci fai qua? Sono felice che tu sei qui con me. Eh, che... che ci faccio qua? È un pensiero... È un pensiero... Nobile, il tuo. E... Generoso. Contento. Sono contento di vederti. È estremamente liberatorio poter parlare con qualcuno e sentirsi totalmente se stesso. Così, no, io ho detto. È un brontolone. Che vorresti dire? Beh, mi sembra quasi molto rigido. Poi in realtà è molto premuroso. Anche molto produttivo. Mario vorrebbe aprire un locale tutto suo. Io vorrei che questo sogno diventasse il nostro sogno. Diventerebbe tutto nostro. Dovremmo considerare mille altri fattori. Sì, sì, lo so. È che io non vedo l'ora di studiarli tutti uno a uno insieme a te. Sempre se ne voglia. No.